oggi utilizziamo l'ads 1015 disponibile in due versioni l'altra 1115 che è un convertitore analogico digitale a quattro ingressi iniziamo subito l'ads 1015 è un convertitore analogico digitale anche abbastanza rapido che lavora su i2c a quattro ingressi a 12 bit esiste la versione 1 1 1 5 quindi 1115 che è invece a 16 bit il vantaggio di questi oggettini qui è che possono essere collegati modificando l'indirizzo i2c quindi potete collegarne fino a 4 questa piccola schedina si va a leggere utilizzando una libreria useremo quella di adafruit vedremo come configurare indirizze perché non è proprio così immediato quindi il chip è veramente piccolo la breakout board ha un pin per l'alimentazione che colleghiamo al 5 volt quindi il vdd abbiamo poi un pin ground che portiamo al negativo di alimentazione abbiamo quattro ingressi analogici a 0 a 1 a 2 a 3 che collegheremo a quello che vogliamo misurare qua poi nel test che ho fatto ho collegato semplicemente un trimmer ad uno di questi ingressi per vedere la misura trimmer 10k tra 5 volt e ground poi abbiamo ovviamente sda scl li colleghiamo al nostro arduino quindi sda sul pin a4 e scl sul pin a5 abbiamo un pin chiamato add a seconda di dove lo collegate modificate l'indirizzo della scheda quindi questo qui può essere collegato a ground 5 volt sda o scl a seconda di dove lo portate modificate l'indirizzo della vostra scheda di conversione quindi se lo portate su ground è a 0 x 48 sul 5 volt siamo su 49 se collegate il pin all sda abbiamo l'indirizzo 4a e sull scl 4b è una cosa un po strana collegarlo su sd e scl ma ho provato e funziona andiamo a vedere il codice vediamo come funziona sotto sketch apriamo include library manage library e cerchiamo l'ads 1015 c'è una ds 1 0 1 5 esce questa libreria di adafruit chi li gestisce tutti e due quindi io ho installato questa e installatela anche voi una volta che la libreria è stata installata possiamo provare a utilizzarla quindi ci mettiamo all'inizio dello sketch come vedete è abbastanza semplice faccio sketch include library vado a cercare adafruit ads 1 x 1 5 l'abbiamo aggiunta prepariamo il nostro oggetto copio il nome lo vado a mettere qui ovviamente sarà 1015 mettiamo ads se il vostro è un 1115 qua metterete 1115 cambia il numero di bit nel setup prepariamo serial punto begin 2006 così possiamo stampare su serial monitor poi è possibile modificare il guadagno quindi faremo ads punto set gain allora io non l'ho imposto ok lo lascio non impostato perché è pericoloso rischiate anche di danneggiare la scheda se lo impostate a un valore non corretto quindi se voi lo lasciate non impostato siete è impostato a due terzi due terzi vuol dire che avete un range che va da meno 6.1 volt fino a più sei volte qualcosa quindi un bit è pari a 3 millibolt sul 1015 ok se mettete già un guadagno differente per esempio mettete il guadagno della scheda a 1 il range arriva a quattro volte e quindi se gli applicate un segnale a cinque volte rischiate di bruciarlo quindi fate molta molta attenzione perché rischiate di fare danni controllate bene c'è negli esempi una tabella con i guadagni ve la vado a riportare qua vi ricordo se non lo impostate siete qua quindi modalità di maggior sicurezza sull'interrolo di 6.1 volt quindi non vi sembrerà strano che non arrivi a fondo scala appunto perché vi fermate prima ok poi fatto questo impostiamo la scheda con un begin si fa ads.begin e qua gli diamo l'indirizzo a seconda di come avete impostato il pin di indirizzi qua metterete 0x nel mio caso ho messo 4a a seconda di dove avete collegato il famoso pin quindi if not begin vuol dire che qualcosa si è rotto se non è collegata bene l'indirizzo non è impostato o qualcosa non funziona vi bloccate qua e potete mettere un messaggio serial.println mettiamo errore quindi si blocca lo sketch altrimenti potete iniziare a leggere ci mettiamo nel loop per leggere il segnale farete ads.redadc underscore single ended e gli dite quale degli ingressi da 0 a 3 quindi questo qui vi fa la lettura la potete salvare in una variabile sono interi quindi faccio int adc 0 ripeto per quattro volte quindi abbiamo 1 2 e 3 di conseguenza qua mettiamo 1 2 e 3 quindi i quattro canali possiamo anche misurare il voltaggio quindi qua posso fare flow at facciamo v1 v0 uguale la libreria mi dà anche il voltaggio faccio con put volts vi passo la lettura adc 0 e mi ritorna il valore calcolato in modo corretto applicando il guadagno che avete impostato lo ripeto per tutti gli ingressi v0 v1 v2 v3 cambiamo anche qua facciamo 1 2 e 3 e poi possiamo stampare facciamo una serial print qua li avevo già preparati prima con una delle le incolliamo qui sotto modifichiamo solo i qua che invece che volzo metto 0 v1 v2 e v3 ma compiliamo carichiamo e vediamo se funziona ecco qua le letture andando ad agire sul potenziometro vedete l'ho collegato sull'ingresso 0 a i n 0 vedete che ho da 0 un valore massimo per oggi è tutto avete visto scheda molto semplice vi permette però di collegarne fino a 4 insieme avere quindi una batteria di 16 ingressi analogici per espandere le potenzialità di arduino tra l'altro sono anche molto veloci bene vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao